E mentre Peppino Di Capri trionfa sul palco dell'Ariston, i miei ospiti lo fanno qui a Telebari Social Night e mi hanno costretto coltello alla gola, devo fare gli ultimi saluti, Valentina Mancone, Donatella sei bravissima e bellissima, guarda proprio spontaneo questo commento della mia amica, ho scelto bene i miei ospiti, vi meritate i complimenti che stiamo ricevendo. Giuliano ci dicevi un piccolo aneddoto su Peppino Di Capri, è stato chi? Che ha scritto, è stato lui ad aprire i concerti dei Beatles nel 65 a Roma, alla Sala Adriano, tutti e tre giorni, era lui perché era il cantante, fra l'altro lui era un cantante che non nasceva in maniera, non era melodico, cioè comunque era un cantante che cantava un po' il rock, il twist, insomma è quello che accadeva un po' per tutti negli anni 60, se immaginate che nasce il primo rock italiano, è stato cantato da Giorgio Gaber, cioè Ciao Come Stai era la B-side di Non Arrossire ed è stato il primo rock italiano, quindi è lui lo stesso, quindi lui è stato scelto per aprire i concerti dei Beatles a Roma e pensate a questi concerti che poi duravano non più di mezz'ora perché era talmente tanta la folla, il fan in delirio Gianni in delirio che dopo mezz'ora, ciao, quindi è portato in giro per tutti quei giorni da Giannina, della sua G500. Piovono i complimenti, Donatella hai proposto secondo me qualche cena fuori gratis, senza invitarmi soprattutto, adesso dovremmo avere un contributo dall'esterno, dal mondo del giornalismo, una giornalista super giovane ma molto preparata direttamente dal Corriere del Mezzogiorno, Rosianna Romano dovresti essere in collegamento con la televisione più top del mondo, aiute? Mi sentite? Forte e chiaro, ciao! Ciao Andrea, saluto tutto il Parterre de Rois che ho seguito. Anche tu hai studiato francese! Si è visto! Allora, un tuo promosso e un tuo bocciato, domanda bruciapelo. Allora, per quanto riguarda le cover, o comunque questa serata che è la mia preferita, io sono con i Comacose e i Baustelle perché secondo me portare i Baustelle all'Ariston è veramente un gran traguardo, quindi li aspetto con ansia, poi tra l'altro la canzone sarà perché siamo dei ricchi e poveri, non so cosa aspettarmi perché è un po' distante dai Comacose e i Baustelle però appunto sono molto curiosa. Viva la sperimentazione, dai, ci sta! Esatto, sì. E per quanto riguarda delle artisti che mi lasciano un po' perplessa, non so cosa aspettarmi per esempio dal duo Cuccarini e Olli e da Mara Satè e Noemi che canteranno la Murtusur di Gigi D'Agostino, quindi sono anche però molto curiosa di loro. Beh, secondo me però dietro il cazzeggio che ci potrebbe essere dietro questo tributo c'è anche un saluto doveroso a Murtusur perché il DJ in caso non se la passa proprio benissimo in fatto di salute, quindi anche una scelta giusta. Lo aspettiamo anche per quello e infatti non vedo l'ora di sentire anche questa canzone insieme a tutte le altre che secondo me hanno comunque il loro perché, nonostante alcuni sono un po' diciamo, per esempio ci vedono questi cantanti più giovani che si cimentano con grandi giganti della musica, però io voglio spezzare una lancia a loro favore perché secondo me meriterà anche quello, quindi Madame Easy con Via del Campo, Ariete e San Giovanni. Spezziamo tutte le lance a loro favore, tu non spezzare una lancia verso di me perché ti rendo protagonista della mia prossima domanda. Così come tutti i nostri ospiti, siamo nel 2004, quale artista in qualità di super ospite salvò le sorti del festival di Simona Ventura Super Simo? A. Milva B. Celentano C. Riccardo Cocciante Parto sempre da Donatella Spero Cocciante Ok Celentano Credo Cocciante Tesoro C. Riccardo Cocciante E allora la risposta è sbagliata perché è stato Celentano, il molleggiato Non ci portavo proprio Io mi sono permesso un tesoro perché sto proprio alle cozze, scusami ma sono 190 giorni di diretta e oggi Maricla non c'è Facciamo un applauso ad Andrea Per i cento E la torta A me Siete fortunati perché ho un'ultima domanda Poi un altro di gioco Eminem super ospite nel 2001 Era il Sanremo condotto da... Non vi do le risposte a questo giro Donatella Raffa Raffa Rosarianna Passo Si può fare Passa, passa Avevo tre anni Non lo so Non mi ricordo Adesso riagganciamo subito Come ti sei permessa Io mi risco a Donatella Passa, passa, passa Sulla terrassa Porta, porta, portami una farfalla Ballo, ballo, ballo Nel castello Beh, cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è Un po' di attività fisica l'ho fatta anche oggi Spero di aver consumato le mie due calorie giornaliere Risposta super esatta Ho un ultimo game Questa volta un po' visivo Chiedo dalla regia di preparare le foto E di rinfrescare la vostra memoria Perché ho preso dei personaggi Non proprio iconici del festival di Sanremo Chi se la ricorda Non so se la vedete tutti Alzi la mano Affigurati Donatella non alzi la mano No, non alzo Tu dici il nome Io dico come si chiamava la canzone Lidia o Linda 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 Sole, cielo e mare Aria, sole, cielo e mare Dove naufragare Era il Sanremo Ricordiamo l'anno Di Simona sempre Era il sempre di Simona, 2004 Quindi 2004 Questa me la ricordo anch'io Comunque avete tutti i fan che vi salutano Mia madre e mio padre dove cavolo stanno Scusate Non c'è neanche la lavanderia di Maricla oggi I fan nostri Dormono Beh, ho un altro personaggio da indovinare Zan zan Alzate le mani Ma non ci stava una fotobolta Le braccia Lui è quasi iconico Parto da te Rosariana Eh, io vado un po' indifferita Perché non ha Cioè, ho il collegamento da una parte E però la La diretta non ce l'ho Quindi non riesco A guardare Il brano era Sparirò Lui è? Sparirò È sparito? Sparirò Non lo so Più noto poi col suo brano Calma e sangue freddo Ah Sulle mani Siamo tutti fan di Luca Delizio Luca Delizio Proprio a lui Però la canzone sì Ma si è tagliato i capelli dopo un po' Sì, quello è stato Sì, sì, sì Sì, sì Sì, sì Sì, sì Sì, sì Scusaci Luca Scusaci Giuliano Ciliberti Un pozzo di sapere Sì, però ogni tanto bisogna anche chiuderlo questo pozzo Perché parla assai È verissimo Alessandra Scannicchio Baci anche se non mi hai salutato Grazie, ciao Ancora un'altra foto da vedere Andiamo alla foto Beh Ma lei no È Nina Zilli no? No Zoomiamo sul viso Ho preso un po' più nel meteorandante Vabbè io mi ritiro perché non la so Sembra Nina Zilli un po' I super fan di Amici di Maria se la ricordano No Lei era Maria Pia il super zoo Cioè la conosco io e il mio vicinato e vivo in un'eremo Che anno era? Questa domanda non è lecita Infatti E comunque Andrea ci vuole fare ufficialmente sentire Boomer Questa è la realtà No ma comunque sarà più di vent'anni fa eh Adesso dovrei avere un'ultima Non è una meteora Ma è molto particolare questa foto Vediamo Ragazzi È un'icona della nostra Puglia Ha cambiato nome d'arte Qui era Mix Ah caparezza Sì Irriconoscibile Comunque Ho zittito il pozzo di sapere di Giuliano Ciniberti Ma c'è un perché Perché in realtà la foto è talmente Sgranata No no non tanto sgranata In realtà sembrava una foto anni 60 Con la guarda un po' lunga Quindi non riuscivo a capire Però poi ho detto No il logo dai 1 è anni 90 Quindi vedi Non riuscivo C'è sempre comunque un taglio Vabbè Anche i pozzi piangono Sono riuscito nell'impresa Di far perdere followers ai miei ospiti In quanto questo gioco vi è un po' destabilizzato Nicola Brusci ti saluta Donatella Ma l'hai deluso tantissimo Non mi riconosci Luca di Rizio Infatti un personaggio così iconico Era forse il più noto Insieme ovviamente a Caparezza Però io farei un avviso a casa Anzi una rivelazione Rivelation vai Non siamo critici musicali Assolutamente Non so io no Tu Non sono critici Anzi oggi non c'è il nostro Siamo umani Non c'è il nostro hater Che di solito ci chiede Siete esperti musicali Arriverà Io dico no E lo rivendico con orgoglio Altrimenti non ascolterei Alessandra Moroso H24 Però siamo molto appassionati No sono proprio frecato Ah ok C'è Eva D'Alessandro Che dice Melania Sempre arguta ed esplosiva Mamma mia Come si riconoscono I follower pagati Proprio così Ma io no Pagati con l'amore Madonna che bello Allora Sul palco dell'Ariston Non c'è assolutamente nessuno Quindi avete fatto bene A tenere sintonizzato Telebari Che regala grandi soddisfazioni C'è un remake Di Ballando con le stelle A Peppino Di Capri Abbiamo subito il meme Tratto da Disney Con Up Un personaggio mitologico Ecco Vediamo il meme Il web si sta Sbizzarrendo Come sempre In questi ultimi minuti Di diretta Con Telebari Socialite So che mi avete richiesto Di farne due ore insieme Ma Io non mi drogo Quindi non ce la faccio Peccato Non ho neanche La Coca Cola Vabbè se vuoi tu vai Rimaniamo noi tre I tecnici esplodono di gioia Nel vedervi qui a H24 Io ci sono Tu ci sei Siamo già in quattro Per continuare Fino a quando finisce Questa serata delle cover Penso delle due Le tre Ho una domanda per te Noi abbiamo Il polso dei social Per sapere ciò Che il pubblico vuole E non vuole Sulla carta stampata Come decidete Di chi scrivere Abbiamo un mare di artisti Adesso fuori Con tantissimi progetti Sulla carta stampata Pugliese Beh direi che siamo Condizionati da Anna Oxa Ovviamente Quindi Possiamo Scrivere di lei Perché ovviamente La Puglia Le vuole bene Quindi Dici? Non lo so Però appunto Anche quello è il bello Una nostra collega E' andata a San Pasquale Dove è originaria Ecco che mia mamma Si è unita finalmente Quindi vi posso abbandonare La mia giornata Finisce in tranquillità Ho anche io Una mia fan Mamma se scrivi un commento Carino su di me Ti dico grazie Però c'è Lucio Che dice Bravissimi tutti Ottimo Rosarianna Romano Super contributo Del Corriere del Mezzogiorno E' arrivata Chiara Francini Sta arrivando Chiara Francini Alzi la mano A chi sta simpatica Chiara Francini Ma no Ma dai Ma no No dai De Gustibus Ma zero proprio One you One you Neanche tre Però spero che possa risollevare le sorti Un minuto alla chiusura Quindi godetevi questi ultimi minuti insieme Con questo Non l'ho mai detto fino ad oggi Parter de Roi Mandateci le vostre preferenze Chi vincerà il Festival di Sanremo Lo vogliamo sapere da voi Che ci state seguendo In diretta Facebook Sembro quasi Vanna Marchi Che fa le televendite Tecnico del suono Morto Valentina All'overo Ti saluta Dona Con tante emoji Timidona Allora Chi sta per salire La Chiara Francini Vediamo un'altra per alzata di mano Non so come faremo telefonicamente a vedere la tua mano Ma ce la immagineremo Ti provo Le spalle di Amadeus Quindi dalla Ferragni alla Fagnani Promosse bocciate in linea di massima Giuliano Il silenzio Il silenzio Melania Abbastanza 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 C'è il monologo Ci sono quattro cose in croce Cinque, sei Da leggere Da leggere Basta Basta Io credo che andrebbe dato uno spazio totalmente diverso Oppure Non le fate proprio venire La fai venire Canta qualcosa Un bello spazio Che accorpi tutti quei minuti E secondo me uno fa anche miglior figura Provacchiamo il pozzo Ringraziamo i tecnici Ringraziamo chi ci sta seguendo Che sta dicendo Madame Mengoni Insomma tutti dicono la loro Vi auguriamo un buon festival Devo ringraziare tutti i tecnici Ancora una volta Maricla Compagni ad avventure Marco Montrone Tutti quanti Viva Paola e Chiara Un saluto particolare Io lo farei a Eleonora Magnifico Assolutamente sì Ad Eleonora Magnifico Un'amica Un bacio Immenso Il palco ti aspetta Yes E noi fan con te Grazie alle mie ospiti I miei ospiti Tutti Tutti Ciao Andrea Batticinque Ciao Questo programma è stato presentato da Supermercati Doc e Famila Superstore Conserva Trasporti e logistica City Moda Seguici sulla nostra pagina Instagram City Moda Italia Oppure su Facebook Banca Popolare di Puglia e Basilicata Trasporti e